eh devo far l'imitazione oppure lo dico normale lo dico in maniera natura dai facciamo l'imitazione vorrei capire cosa ha combinato ha sempre quel tic un po' vorrei capire cosa ha combinato spalanca bene le fauci e fa vorrei capire che mi si sente vorrei capire cosa ha combinato nella regione Emilia Romagna oddio vorrei capire cosa ha combinato vorrei capire che ha fatto con i nostri soldi con i soldi degli italiani che cacchio sei stato anche presidente del consiglio va là oddio dai no 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 è stato presidente del consiglio dei ministri io non sono promeloni se la prima volta mi vedi ti chiedo scusa magari se sono un po' esagitato chiedo venia chiedo venia vabbè se a voi chiedo venia in altri 7% iscrivetevi alla campanella per ogni aggiornamento dico le grazie a ognuno di voi ma lui parla la gente più diciamo no dai bisogna dirlo ignorante ignorante quella che non sa che in realtà non è tanto lo stato che in minima parte aiuta ti aiuto ma è la regione che deve farsi sentire verso i propri cittadini economicamente moralmente parlando ok come bonancini prima interviene fa che i soldi il governo ce li ha dati adesso ma che cacchio ma l'Emilia Romagna veramente ma che è burundi scioccia ragazzi non credo proprio eh oh l'Emilia Romagna è la regione tra le più ricche in Europa e nel mondo ma dove madonna madonna comunque il conte riveramente ha detto questa cosa i soldi che fii come li avete utilizzati i soldi per l'Emilia Romagna ma non è lo stato che deve utilizzare i soldi lo chieda alla regione lo chieda alla regione con te porca caccia la miseriaccia oh io ragazzo non sono un cretino avanti e non sei cretino o cretina a precedenza che sono nemmeno te nemmeno lei che mi sta guardando che mi stai guardando porca vacca oh è la regione che si deve attrezzare ho capito lo stato lo stato e vabbè però così è morti di fame pensare solamente allo stato ecco un altro bonaccini aveva detto i soldi erano arrivati non tutti ma immediatamente aveva visto sul bonifico della regione due miliardi oh grazie meloni grazie non è arrivato niente come non è arrivato niente e che ce lo siamo dimenticato ma ci ha preso tutti per cretini che fichi i soldi dello stato come li ha utilizzati per le mie mani è stato presidente del consiglio conte avanti mi sembra un novello della politica anche come avvocato ditemi la vostra nei commenti scusate se mi avete trovato un po troppo fuori di senno ma ste cose veramente oi ok 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 ok